questo canale in collaborazione con car 3 zero ricordatevi di iscrivervi tramite il mio link d'invito così per avere due euro di bonus per tutti i vostri acquisti nel sito inoltre ricordatevi di selezionare sempre la scelta di car zero per risparmiare sulle vostre spedizioni buon acquisti e bentornati carissimi in questo nuovissimo video qui con voi è sempre il vostro caro nico dei pokemon come sempre prima di iniziare diamo il benvenuto e bentornato coloro che ci seguono sempre ragazzuoli oggi è ovvero venerdì 2 giugno ieri sono andato a fare un pre release di evoluzioni di paldea e infatti oggi vi ho portato un altro kit di pre release da aprire qui con voi sul canale vediamo se in questo kit andiamo a sculacchiare nello scorso kit ragazzuoli in quello che ho giocato ho trovato tanta tanta robina anzi poi quando cambio cam vi faccio vedere cosa ho trovato nello scorso kit spero che mi vada bene anche questo kit purtroppo ho fatto due vittorie e due perse vi faccio vedere anche il mazzo chiusato perché ancora non lo smontato quindi vi faccio vedere prima costruito nell'altro kit e poi ci apriamo insieme questo fantastico kit di evoluzione paldea sempre in prima ragazzi prima lo facciamo molto hirly ragazzi molto hirly anche perché l'espansione esce il 9 di giugno e noi siamo al 2 di giugno quindi abbiamo già le carte nome in mano belle fresche 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 quindi io direi senza perdere altro tempo alcuno vado a prendere l'altro kit così vi faccio vedere un po le cose che ho trovato e andiamo allo spacchettamento ma non prima di ricordarvi che qui sotto avete il mio link a instagram card market e avete il codice di car 3 0 dove guadagnerete 2 euro se vi scrivete col mio link guadagnate 2 euro di bonus per i vostri acquisti andate e acquistate ragazzi così supportate il canale in un altro modo facile veloce e gratuito per supportare il canale e lasciare like e se non l'avete fatto iscrivetevi quindi andiamo al video di oggi e andiamo a sbussare questi bellissimo kit di pre release ed eccoci qui ragazzuoli con il nostro fantastico kit di pre release tutto da aprire ma prima come vi ho detto nell'intro vi faccio vedere con cosa ho giocato e cosa ho trovato allora questo è stato il mio mazzo con cui ho giocato di vittorie e 2 perse purtroppo qui ci sono tutte le altre carte che ho trovato nel kit nelle quattro bustine all'interno quindi un bel po di robina niente di interessante ma le vere bombette ragazzuoli sono qui dietro che ora vi mostro assolutissimamente allora nello kit che ho giocato ieri abbiamo trovato un bellissimo coperagia che secondo me sarà tanta roba nel prossimo metà abbiamo sbustato un bellissimo neo scarada gold ex tanta tanta robina abbiamo un vcen ex full art e un alternative gallery di meri ragazzi tanta tanta roba e tra l'altro queste due ragazzuoli questi due qui erano nello stesso pacchetto quindi tanta tanta robina ora vi faccio vedere anche il mazzo con cui ho giocato il mazzo che ho creato che è questo qui praticamente era un bascalibur con anche gli uccellini vi devo dire carino quando girava era davvero davvero forte però ragazzi due vittorie e due perse perché giustamente nei mazzi di playlist c'è sempre il fattore fortuna quindi questo era era un bascalibur con un unico taurus che ragazzi vi giuro avevo sempre in mano è sempre benciato al primo turno che mi faceva da scudo per settare bascalibur sono state davvero delle partite divertenti da giocare non mi posso lamentare è stato davvero un bel pre release in quel di bari tra l'altro quindi ragazzi alla fumetteria di di bari che non è la fumetteria ma è il finibus ragazzi se siete di bari o circostanze andate a trovare anche i miei amici di bari e ragazzi con cui potete giocare e trovare tutto quello che vi serve tra giochi da tavola carte pokemon tutto quello che vi serve ragazzi e quest'era ma ora andiamo andiamo alla robina che ragazzi oggi andiamo a quello di oggi perché oggi vogliamo sculacchiare anche qui quindi andiamo a prendere i nostri forbicini dalla punta arrotondata mi raccomando usiamo solo quelle della punta arrotondata signor tube queste sono forbicine che usiamo solo in questi casi quali andiamo a aprire non abbiamo neanche aperto bene e invece si invece si togliamo la plastichina di solito volato in copino ma oggi volevo volevo toglierla insieme a voi perché così capite che è bello premi uso allora abbiamo trovato la prima di bascalibur la promo di tiki tank tiki toonk mi manca peliper e mi manca marco quindi chissà cosa troveremo in questa andiamo subito a scoprire ma prima ci togliamo ovviamente i quattro pacchetti che abbiamo qui abbiamo mio scarata abbiamo non mi ricordo ma tinglu e kienpao e questo non mi ricordo mai come si chiama mannaggia scheletri che scheletrige che ce l'abbiamo fatta tra l'altro due carte che voglio tinglu e kienpao chissà 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 andiamo a vedere chi sarà la promo bellissima questa mi mancava ragazzi marco promo di evoluzioni baldea mi mancava ora manca soltanto peliper per completarli tutti e quattro che dire che dire buono per la promo buono 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 e tra l'altro ci deve arrivare ancora un altro kit apriamo anche quello sul canale quindi 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 è così ragazzi è così ora magari ci troviamo i peli per il completiamo altrimenti scambieremo allora ci apriamo questo mazzetto vediamo se è più fortunato del mio tra l'altro vi regalo anche il codicino del mazzetto così vi beccate magari una promo anche voi qui abbiamo tra l'altro qui sopra un po storta vediamo se riusciamo o perfetto allora abbiamo il bellissimo marco di evoluzioni paldea con ali unite ragazzi un mazzo davvero davvero divertente poi abbiamo queste anche le ho completate tutte infatti qui abbiamo che un paolo e le ho tutte e quattro abbiamo delle energie erba ok quindi erba buio quindi sicuramente questo è il mazzo di lo kick con gli uccellini gli uccellini erano un po ovunque allora ultra vol buona miglior ricerca accademica sim gruscia buono anche gruscia vi devo dire pesca fino ad avere cinque carte in mano se nessuno dei tuoi pokemon ad energie assegnati vicine peschi fino ad avere sette carino carino club che ci permette di prendere tempo con base che hanno meno di 120 di vita è questa la volevo ragazzi perché è ordine del capo in versione regula che si trova solo nel kit di prelisa altrimenti nelle bustine normali la troviamo o reverse o olografica quindi buono 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 questa era una realtà che volevo qui abbiamo il peliper che ci permette di prendere un allenatore dagli scarti o dal nostro mazzo questo ci manca l'unico promo di questa qua abbiamo altri marco ovviamente quindi per arrivare a 4 per di marco abbiamo il quarto per di flamico che erano praticamente in ogni mazzo e il pezzo forte di questo mazzo è proprio nibble perché ragazzi abbiamo 3 per di nibble e 2 per di logix logix quando lo fai evolvere nel turno in questo turno praticamente fa 100 danni più quindi fa 130 danni con un'energia è per un kit di prelisa davvero tanta tanta roba infatti con questo mi sa che mi hanno battuto quindi tanta tanta robina per logix ma tanta tanta robina anche per il bossor del regola è questo fantastico marco ragazzi bella bella brolla sono contento aver trovato una promo che mancava ma ora ragazzuoli c'è una pietra di quattro pacchetti magari se riesco ci salviamo anche le bustine mi sa che questa di mio scarata mi mancava la scorsa volta abbiamo salvato una di team group e l'altra di scheletrige vediamo siamo a salvare anche questa per ora sì se riusciamo anche uscire o perfette ragazzi anche meno scarata è bella che salva intatta ragazzi buono possiamo richiuderla e venderla scherzo codicino che vado a regalare vi ricordo che prima del 9 non riuscirete a riscattarlo quindi conservatevelo abbiamo due spans noi bat il bellissimo spregatito con questo artwork tenerello quaxi toxi croc croc calore ok serafo e croc calore abbiamo trovato tuttette listarte peliper ancora lui ormai è ovunque abbiamo la prima reverse che è gruscia mi mancava quindi buono 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 la seconda reverse che è un tauro slot perfetto ragazzi mi mancava anche questo sono davvero felice tra l'altro mi hanno regalato anche un tauro suoco quindi reverse tanta tanta roba mi manca solo tauro acqua reverse e tauro su fuoco regular e poi ce l'ho tutti e vabbè a parte dell'alternative che magari troviamo proprio qui niente garganacol ragazzi garganacol olografico e mi sono scusato di togliere l'energia garganacol che mi devo ricordare di trovare un acco da regalare al fantastico amico che mi ha regalato il tauro tanta roba proprio lì ragazzi la volevo il mio amato tauro sì il mio amato tauro qui niente però per me già aver trovato questo tauro siccome aver trovato una carta buona quindi va bene questo questo parchetto per me è tanta roba vediamo se riesco a salvare anche questa perché non mi ricordo se ce l'ho se le salviamo tutte tanto meglio mi sa che ci siamo riusciti vediamo solo l'uscita della bustina ragazzi escono d'addio d'addio ragazzi le bustine si salvano allora codicino lo regalo riscattatelo dopo il 9 giugno energia psico non so mai dove mettere questo lo togliamo e andiamo con bramblin carino andiamo con shimps carino anche questo una sola volta durante il tuo turno se questo è stato poco in posizione attiva puoi spostare il poco attivo il tuo avversario in panchina e vabbè ma lo sceglie lui quindi non è tanto buono abbiamo nibble che abbiamo già visto nel mazzo di pre-release poi abbiamo mashif bellissimo che sembia arrabbiato ma sta solo correndo la fantastica energia in versione tanta tanta robina questa tanta roba c'è chi ci regala tre energie in colore ai nostri tre energie qualsiasi ai nostri pokemon che non sono che non hanno regola speciale energia terapetica buona pokemon questa carta guarisce dalle condizioni speciali tanta roba e non può essere neanche infetto dalle condizioni speciali quindi buonissimo poi abbiamo romerio buono 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 anche questo ragazzi scarto energia speciale da ciascuno dei pokemon nel tuo avversario buono buono mi mancava se non sbaglio la prima reverse di tiranitar bella 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 anche questa ragazzuoli tanta roba la seconda reverse è ok è una reverse kilowattrel va bene va bene non ho trovato ancora un altro wattre ragazzi kilowattre è la rara la rara è una olografica di ortuborm ok carina carina anche la sua abilità se ha quattro energie se ha tre energie metallo assegnate a 100 di vita in più quindi arriva a 230 di vita però attacca con quattro energie carino 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 ma niente di che ragazzi niente di che queste bustine non ci stanno regalando gioie andiamo di chien pao lasciamo tinglu per ultimo vediamo se riusciamo a salvare anche la bustina di chien pao sembrerebbe di sì ragazzi li hanno fatte un po meglio queste bustine proprio bene 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 vediamo ho sempre paura di rovinarla però chien pao sono sicuro che la bustina mi manca perfetto anche chien pao l'abbiamo salvato buono 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 allora codicino che vi vado a regalare vi ricordo sempre dopo il 9 giugno potete riscattarlo qui abbiamo l'energia metallo che non ci serve e andiamo slagot carino che si sta appisolando su un tronco tagliato paghiamo v per dipaldea io adoro questo poco ma non quanto la sua evoluzione che è stupenda pikachu ormai lo ristampano in qualsiasi posa qui in mezzo dei palazzi kufant carissimo anche questo artwork perché che dire era gross bellissima c'è l'alternative art di questo era gross che fantastica talon flame bellissimo abbiamo chi lo altre ancora in regola abbiamo trovato verso noi poi abbiamo la prima reverse tv per dipaldea che carino diverso dall'altro davvero davvero carino poi abbiamo la seconda reverse che ancora puio ed è un day no bella anche questa è la rara ragazzi la rara è una olografica a buio che è tiranita ok ora abbiamo sia tiranita reverse che olografico che dire speriamo di trovare qualcosina nell'ultima bustina altrimenti questo kit è un po una cagatina ragazzi dobbiamo dirlo questo kit è un po una cagatina ne abbiamo trovato praticamente nulla di che abbiamo trovato il kit vuoto almeno ma la dai qualcosina rigoloso qui ti fai trovare una gold e una chr insieme dai su anche questo team blue salvato tra l'altro bellissimo questo char cadet qui andiamo a regalare anche l'ultimo codicino di oggi andiamo a togliere anche l'energia lampo e vediamo un po char cadet abbiamo relor tabdul frigi bucks carino carino buono per pascalibur poi abbiamo flash in e ancora abbiamo vigorot la prima ora anguru ora ci dovrebbe essere tra l'altro questo anguru può essere davvero fastidioso perché con una psico è una in colore blocca l'attacco del pokemon attivo dell'avversario quindi tanta tanta roba come prima reverse abbiamo tinkaton che reverse mi mancava quindi tanta tanta roba se non sbaglio anche questa c'è in regular che abbiamo trovato e in ulo la prossima reverse ragazzi vedo qualcosa sotto la prossima reverse e ma boss if e a quanto pare abbiamo qualcosina sotto ragazzi qualcosina c'è e mi sa tanto che ho capito già cos'è e sotto abbiamo un bel ah no belling bolt pensavo pikachu ma invece è belling bolt che se non erro mi mancava qui comunque ci siamo portati a casa una ex non proprio un kit dalle mille carte buone ma almeno ci siamo portato un bel belling bolt a casa e tra l'altro non ho neanche trovato delle carte che mi servono nel marzo però sono felicissimo di aver trovato il fantastico dove 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 ho saltato il fantastico taurus reverse quindi per me questo è già un altro pacchetto super ve lo dico e tra l'altro abbiamo anche sia tirante a ruolo che tirante reverse quindi buono così ragazzi dai buono così niente di che è ma comunque ci hanno portati la promozionale di paldea di macro belling bolt e tavolo a casa io sono accontentissimo per questo tavolo credo che si sia capito quindi va bene così e per meno così direi che per questo video davvero tutto nel prossimo vi porterò altri pacchetti di evoluzioni di paldea credo un altri sei pacchetti e dopo ancora un ultimo kit di pre release e poi andremo a fare dei fantastici mazzi sul gioco andiamo a fare anche lo spacchettamento online con roberta sul trainer card game live quindi non perdetevi i prossimi video mi cari ragazzuoli e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti